buonasera a tutti amici sportivi amanti del grande calcio dilettanti su gazzetta di siena torno da bordo campo perché in queste settimane sono ripartite le categorie di serie d ed eccellenza e quindi come le stagioni scorse anche noi iniziamo una nuova avventura nel mondo del calcio dilettanti questa sera a trovarci c'è per la prima volta un giocatore del valentino mazzola e diamo il benvenuto a simone jacoponi ciao simone ciao ciao buonasera a tutti classica domanda di rito come stai visto che insomma il campionato iniziato categoria nuova tante cose nuove no io personalmente sto bene con la squadra mi sto trovando molto bene diciamo che ci sono tutti i presupposti per continuare fare secondo me un gran campionato senti simone prima di parlare della stagione entrare nel vivo della stagione e rivedere i gol risultati la classifica al prossimo turno eccetera eccetera com'è che ti sei avvicinato al valentino mazzola perché tu hai alle spalle una carriera da professionista anche importante hai veramente tantissime prove presenze tra i professionisti negli ultimi anni avevi fatto campionati di serie d e poi quest'anno scende in eccellenza sì io diciamo che la mia carriera parla un po da sola per quanto riguarda questa situazione mi sono avvicinato al mazzola perché cercavo un progetto serio e quindi parlando col direttore ho percepito questo una società ambiziosa che comunque voleva cercare di migliorare ciò che aveva fatto fino adesso e quindi mi è sembrata la squadra la società giusta per quello che stavo cercando stagione è iniziata e ufficialmente con la coppa italia nel quale poi sarete impegnati anche in settimana nel ritorno contro l'asta ma a partita la quale arrivate grazie a due due gol due gol appunto di vantaggio una vittoria per 2 a 0 due gol molto simili sì due gol su due angoli simili una rientrare una uscire però comunque due gol su pare nativa sì e parlando invece del campionato settimana scorsa c'è stato diciamo un pareggio per 0 a 0 contro il lanciotto rianalizziamo anche un attimo quella partita prima di passare a quella giocata e vinta contro il foiano che partita è stata quella contro il lanciotto perché il lanciotto era una squadra nuova per questo girone anche se poi fondamentalmente anche la vostra squadra è nuova per questo girone perché il valente mazzola ha cambiato molto sì no la bella partita la scorsa partita è stata una partita tosta complicata soprattutto perché c'erano pochissimi spazi e quindi abbiamo fatto fatica a trovare delle soluzioni per trovare il vantaggio secondo me meritavamo qualcosa in più perché appunto la maggior parte della partita l'abbiamo svolta noi abbiamo cercato appunto di trovare lo spunto per portare a casa i tre punti purtroppo non ci siamo riusciti e quindi il pareggio forse ci stava un po' stretto però l'importante era fare punti già già dalla prima partita mentre la partita di ieri è stata completamente diversa e poi l'episodio del rigore ci ha sbloccato quindi poi con l'incontro che siamo riusciti a fare anche il 2 a 0 questi tre punti che abbiamo fatto ieri secondo me sono molto importanti e ti danno già una buona spinta per iniziare il campionato con il pene giusto allora prima di parlare a fondo della partita contro il foiano visto che abbiamo visto insomma che il piede per il lancio lungo ce l'hai mi è servito un asset per andare a vedere gli highlights andiamo a vederli vai allo stadio dei pini di foiano della chiana si gioca la seconda giornata del girone b di eccellenza toscana il foiano e il valentino mazzola arrivano a questo match dopo i rispettivi pareggi contro scandici e lanciotto e allora tutti comodi un buon divertimento da francesco ben in casa arriva il fisco il direttore di gara iniziata così questa seconda giornata è un'assenza importante per argilli che perde di fatto una prima punta da 13 gol lo scorso anno attenzione al tiro di verdelli il blocco da parte di fontanelli a cercare un compagno là davanti famigli per bohamed pensa al tiro va ad innescare proprio bomaruan la palla in mezzo ancora per bomahamed doppia deviazione dopo scorso anno la juniors nazionale del san donato attenzione a bohamed con il sinistro vola lombardini la meglio oxai solo per un attimo barducci scarica dietro da gucci cercare oxai tafly con il tacco dietro per il tiro poi che arriva da parte di bomaruan e poi di gregorio un po' di confusione in mezzo al campo corsi un 4 contro 4 corsi il tiro dalla distanza fontanelli vola inizia così il secondo tempo ad arrivare però il foiano con bux servito da corsi palla dentro per costantini in posizione regolare no aveva trovato un gran pallonetto barducci si allunga la sfera tafly a chiudere con barducci la palla poi toccata da lombardini salvata da nannoni palla sul 9 che cross in mezzo verso tafly il controllo del numero 10 si libera per il tiro forse con un braccio calcio di rigore per il valentino mazzola ha toccato con un braccio nannoni camilli rincorsa corsa per il numero 8 che spiazza lombardini e fa 0 a 1 a favore del mazzola ancora aspetta fare ulteriori cambi verdelli la mette in mezzo allontana jacoponi può tirare oxai non impatta la sfera riparte bohamed in campo aperto è un 3 contro 1 si butta avanti anche jacoponi c'è anche tafly bohamed solo contro bux bohamed a servire tafly torna su di lui poi ancora cacioppini la palla che rimane lì è 2 a 0 valentino mazzola boomer one che esulta la cristiano ronaldo corsi con il tacco la palla è buona per costantini la prolunga per mostaccia anche lui con un tacco costantini si butta in mezzo può calciare con il sinistro il tiro è debole in due tempi blocca fontanelli ha vinto 2 a 0 in casa contro il lasta in coppa italia non c'è più tempo il valentino mazzola rimane bestia nera del foiano vittoria per 2 a 0 calcio di rigore realizzato da camiglie diciamo una una buona ripartenza anzi un'assoluta una ripartenza perfetta dove bomar one poi è riuscito a chiudere sul 2 a 0 mazzola comunque alla fine ha rischiato qualcosa nel primo tempo forse in un ultimo palla al novantunesimo il foiano poteva trovare il gol della bandiera però partita molto equilibrata sì soprattutto secondo me il primo tempo è stata abbastanza equilibrata per quanto riguarda secondo secondo me abbiamo fatto meglio noi e meritato il vantaggio nel primo tempo forse c'è stato qualche episodio dove potevamo essere un po più un po più concreti un po più cattivi perché non tutte le partite comunque uno può creare 4 5 occasioni da gol e poi non non passare in vantaggio quindi bisogna cercare di sfruttare al meglio forse quelle situazioni che ci capitano perché poi come ti ho detto non sempre si può aspettare la seconda o la terza questi tutti i risultati di ieri dove praticamente l'africo ha vinto 3 a 0 in casa contro l'astrigiana vince la collegiana 1 a 0 in casa contro il grassina 0 a 0 tra lanciotto e antella lo abbiamo visto il valentino mazzola ha battuto in casa il foiano per 2 a 0 in casa il foiano per 2 a 0 0 a 0 tra rondinella e baldaccio bruni il signa continua a vincere e lo fa per 1 a 0 in casa contro la fortis vince la castiglionese per 1 a 0 in casa della sena lunghese con il gol dell'ex cavallini dopo rivedremo le immagini 0 a 0 tra asta e scandicci con lo scandicci che si ferma per la seconda volta a reti bianche simone te sei un giocatore esperto della categoria risultati che ti sorprendono oppure le big le cosiddette big tranne il signa che insomma è partita molto forte uno scandicci mi verrebbe in mente poi diciamo la rondinella sembrano stiano faticando in questa via di stagione ma sai penso che sia ancora presto per dettare un attimino chi sta facendo bene o male siamo solamente alla seconda partita è chiaro che non penso ci siano in questo girone partite scontate o semplici da giocare quindi penso che sarà un giurone equilibrato quindi anche due pareggi dello scandici non è che mi sorprendono come ti ho detto che vincere non è mai scontato e semplice quindi ognuno sicuramente suderà abbastanza in qualsiasi campo e quindi appunto la vittoria che noi abbiamo fatto ieri secondo me è molto importante questa è la classifica prima del prossimo turno in testa al signa sei punti poi tante squadre a quattro punti africo asta has di ionese valentino mazzola a tre punti la colligiana la lastrigiana a due punti poi troviamo la rondinella la baldaccia il lanciotto eh e eh lo scandici a un punto eh l'antella il foiano la fortis e il grassina a zero punti la sia lunghese parlare ovviamente adesso di classifiche è presto però possiamo ben vedere che il signa è partendo anche dalla stagione che ha fatto lo scorso anno dalle riconferme che ha avuto in eh staff e giocatori è sicuramente una delle squadre che lotterà in questo campionato abbiamo chiesto al mister se il valentino mazzola può essere una delle squadre che lotta per il campionato lui ha detto calma vediamo dopo partita simone jacoponi cosa crede invece no io credo che noi bisogna essere diventare una squadra ambiziosa non non porci dei limiti ma cercare di migliorare partita dopo partita e poi vedere a che punto siamo e cosa cosa riusciamo a fare è chiaro che se ci mettiamo tutto noi stessi e quindi poi lavoriamo bene secondo me qualche risultato importante possiamo farlo però come ti ho detto non è niente scontato e quindi bisogna sicuramente guadagnarci ogni punto su ogni campo prossimo turno nel girone B di eccellenza toscana arriva subito un bel test per per il valentino mazzola perché ospiterà il signa ovviamente no che gli altri test non siano stati importanti però insomma arriva il signa e simone potrebbe essere appunto subito un bel banco di prova per voi sì sì no sicuramente viene da da un inizio importante quindi è chiaro che sarà una partita complicata è una classifica va guardata non guardata però dice dice questo adesso e quindi bisogna sicuramente fare la partita al cento per cento per cercare di ottenere un risultato positivo che altre senesi la sena lunghese sarà i ospite dell'africo l'asta ospite della castiglionese e la colligiana ospiterà il foiano simone siamo praticamente sulle battute di arrivo e ti chiedo qual è il se ci sono se ti sei prefissato degli obiettivi personali per questa stagione no fissato degli obiettivi precisi no come ti ho detto siccome ho visto una società ambiziosa e con la voglia di migliorare di fare quindi cercare di fare il meglio per questa società e di toglierci delle soddisfazioni ora quali siano di qualità non lo so lo vedremo con lo svolgersi del campionato però sicuramente di cercare di stare in alto insieme alle prime per poter lottare fino alla fine e allora noi ringraziamo simone jacoponi per il tempo che ci ha concesso e quindi facciamo a lui a tutto il valentino mazzolano in bocca al lupo per questa stagione grazie mille che è bel lupo noi guardiamo invece quelli che sono stati gli altri diciamo risultati nel girone b di eccellenza toscana con gli highlights delle altre formazioni senesi è la prima in casa ovviamente per i rossoverdi che quindi si affidano anche al loro folto foltissimo pubblico e provano a partire subito pimpanti ma è in realtà la colligiana che prende il comando delle operazioni e dopo un paio di folate offensive con calamassi trova il palo esterno con questa conclusione di carlotti col mancino la risposta del grassina condini che va a giro anche lui col sinistro la palla esce di poco il grassina alla mezz'ora si fa ancora vivo con simone che riceve prova la staffilata bloccata però centralmente da morandi l'occasione è maggiore per i rossoverdi arriva qua con al farano che raccoglie da corner trova una prima respinta e poi manda alto un'altra folata offensiva della colligiana l'uscita così così di bartoli non ne approfitta però corcione a raccogliere un cross che arrivava da destra con le immagini il montaggio di fabrizio giannoni passiamo alla ripresa con il secondo tempo che inizia senza sostituzioni ma è proprio nel primo minuto della ripresa che si verifica l'episodio che poi alla fine risolve la partita il grassina e sembrerebbe portarsi in avanti con raffanelli che cerca becucci viene messo giù non fischia però fallo il direttore di gare signor danesi di pistoia l'azione dunque prosegue con la colligiana che manda in avanti pampalone svirgola il rinvio favorisce la battuta al volo di corcione con il destro trova la battuta vincente il numero 7 porta in vantaggio i suoi rischi anche di raddoppiare la colligiana ma risponde presente bartoli sul numero 10 ospite il grassina si vede con questo tentativo di simoni nel finale fatica un po' a reagire lanci in avanti per parini il subentrato betti ma i rossoverdi non riescono a trovare gli spazi per il pareggio nonostante i sei lunghi minuti di recupero e allora devono alzare bandiera bianca nei confronti della colligiana che viola il pazzagli come nessuno in passato nella scorsa stagione di promozione era riuscito a fare grassina 0 colligiana 1 questo è il finale dal pazzagli per la prima volta nella storia al campo sportivo arnaldo satini di taverne d'arbia va in scena una partita del campionato di eccellenza l'asta ospita lo scandici per il match valido per la seconda giornata l'inizio è contratto da parte di entrambe le squadre e la prima occasione della partita è per lo scandici al ventesimo con meucci sulla destra che cerca in mezzo del pela il numero 9 non arriva per poco complice anche la buona guardia di manganelli la prima frazione scorre via senza regalare altre occasioni da gol e con le immagini siamo già nella ripresa ancora scandici pericoloso con il cross in mezzo su cui del pela stacca più in alto di tutti attento cefariello che è provvidenziale in tuffo occasione asta al ventunesimo della ripresa sul cross da corner manganelli arriva a staccare indisturbato il difensore però non riesce a schiacciare la palla e ad indirizzarla verso la porta torna a farsi vedere l'asta con un'azione ben manovrata in avanti alla fine batoni tenta il tiro che però viene deviato in corner spinge nuovamente lo scandici che scambia rapidamente al limite dell'area grillo si libera e calcia cefariello devia sopra la traversa con la punta delle dita gli ospiti provano il tutto per tutto a pochi minuti dalla fine poli con il mancino manda a lato di poco torna a farsi vedere anche l'asta con il tiro da punizione di discepolo fedele blocca centralmente la sfera ad un minuto dal novantesimo lancio verso del pela che prova a scappare in campo aperto provvidenziale nuovamente cefariello che accorcia le distanze e ferma la conclusione dell'attaccante lo scandici ci riprova nei minuti di recupero cross in mezzo la palla resta lì e del pela manda di poco fuori l'ultima occasione della partita è la punizione a favore degli arancioblè bandini calcia forte ma la deviazione consente a fedele di bloccare e finisce qui l'asta strappa un punto importante contro lo scandici e mantiene l'imbattibilità dopo le prime due giornate di campionato bambino e la mano bravo lì 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 di Serie D dove il Siena ha vinto 1-0 in casa dell'Aquila Montevarchi dopo aver vinto settimana scorsa 1-0 in casa del San Donato da Varnelle e il Poggi Bons invece ha pareggiato 2-2 contro la Fezzanese in una partita rocambolesca dopo che settimana scorsa aveva vinto 1-0 in casa del Tressina e allora andiamo a vedere le immagini. Ho fatto una grigliata. Grazie. Massaggiri del cazzo. Siamo arrivati sopra. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La folla che ha gremito lo stadio Stefano Lotti mercoledì per la presentazione ufficiale ne è la dimostrazione. Dopo un'attenta fase di studio, la prima squadra a carburare è quella di casa. Ventesimo minuto. Punizione calciata da Boganini. Il pallone termina a lato. 23 sul cronometro. Brutto errore da parte del portiere e ospite Danny Bucci che regala il pallone. Belli però spreca tutto mandando la sfera alle stelle. Ventisettesimo minuto. Questa volta è Mazzolli su calcio di punizione ad impegnare Bucci. Trentesimo. Dormita della difesa giallorossa. Bruccini, il capitano della formazione Ligure, tira verso la porta. Pacini salva in calcio d'angolo. Trentacinquesimo. Passano in vantaggio gli ospiti. Bruccini, con una prodezza balistica, mette la palla alle spalle di Pacini. 0-1. Sul finire del primo tempo, Borri va vicino al pareggio con un colpo di testa sugli sviluppi di calcio d'angolo. Ma si va all'intervallo sul risultato di 0-1 per i verdi. Si ritorna in campo dopo pochi istanti, azione pericolosa per gli ospiti. Dopo una prima fase della ripresa, piuttosto noiosa, Geraci al dodicesimo impegna Pacini. Quattordicesimo si fa vedere il Poggi, Vitiello centrale di testa e poco dopo la bella parata di Bucci sul tiro di Bellini. Il cronometro segna 30 minuti quando gli ospiti sono pericolosi per ben due volte nell'area Poggi-Bonzese. I ritmi non sono altissimi, ma a 5 minuti dal novantesimo arriva il pareggio. Salvadori in sacca, in rete, è 1-1 allo Stefano Lotti. Al novantesimo Poggi-Bonzese vicinissimo al raddoppio con un'azione tambureggiante. La difesa dei verdi riesce ad evitare la capitolazione. Minuti di recupero, i Leoni la ribaltano. Bellini trova il tapin vincente, esplode la gioia giallorossa. Gli ospiti però non si perdono d'animo e si riversano in avanti. Nell'ultimo calcio d'angolo c'è anche il portiere ospite in aria nel tentativo disperato di pareggiare. E chi pareggia? Proprio Danny Bucci. Clamoroso quanto è successo allo Stefano Lotti. Il portiere ha segnato, anche se ci sono moltissimi dubbi sulla posizione. Sembra fuori gioco. Inoltre l'arbitro aveva comunicato ai giocatori giallorossi che dopo il calcio d'angolo avrebbe fischiato la fine. Sulla grande esultanza dei verdi, l'arbitro dà il triplice fischio. Montano le proteste dei giocatori in campo e dei tifosi giallorossi, ma il direttore di gara e il guardalini sono irremovibili. Finisce 2-2, una partita giocata non a ritmi altissimi, ma che si è rivelata rocambolesca e piena di colpi di scena. Passiamo al girone di Serie D dove il Siena ha vinto 1-0 in casa dell'Aquila Montevarchi dopo aver vinto settimana scorsa 1-0 in casa del San Donato da Varnelle e il Poggi Bonsi invece ha pareggiato 2-2 contro la Fezzanese in una partita rocambolesca dopo che settimana scorsa aveva vinto 1-0 in casa del Tressina. E allora andiamo a vedere le immagini. Questa invece la classifica del Girone dopo due giornate. in testa il Siena a punteggio pieno, il Figliene a 4 punti con il Grosseto, il Poggi Bonsi e il Seravezza a 3 punti. Poi troviamo il Foligno, il Giviborgo, l'Orvietana, l'Ostia Mare, la San Giovannese ed il Livorno a 2 punti. Il Flaminia un punto per l'Aquila Montevarchi, la Fezzanese, il Follonica Gavorrano, il Terra Nuova Treana, 0 punti ancora il Sandonato da Varnelle e il Tressina. Amici sportivi amanti del grande calcio dilettanti per questa settimana da Bordocampo termina qua, l'appuntamento come sempre è a martedì prossimo alle ore 21 su Gazzetta di Siena.it. Una buona serata da Francesco Mini in casa.